Caponetti, torna quest'anno la tua stella di solidarietà, un'iniziativa dell'associazione anti-racket e anti-usura che ha ovviamente delle finalità benefiche, cioè sostenete delle famiglie indigenti che sono state selezionate dalla parrocchia Santa Lucia di Gela, dall'associazione Gela Famiglia e dall'associazione Il Tempio di Apollo. Dove sarete e come i cittadini possono collaborare? Sì, noi come ogni anno non ci siamo dimenticati di aiutare le persone più bisognose, però dai risparmi degli anni passati dove una volta si pagava abbondantemente il pizzo, perché non devolverlo alla gente che ha bisogno e soprattutto se ce n'è tanta? Quindi cerchiamo di coinvolgere tutta la cittadinanza, ci collaborano come sempre le forze dell'ordine, con noi saranno presenti la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Capitaneria del Porto, la Polizia Penitenziaria, quindi tutti insieme appassionatamente cercheremo di far passare almeno alla fine dell'anno un po' più serena per le famiglie più bisognose. Chiunque lo volesse domani, dalle 10 del mattino fino alle 8 della sera, potrà conferire, quindi portare generi di prima necessità presso la vostra sede ambulante che sarà piazzata in Piazza Umberto I. Ci sono quattro stende, tutto questo l'abbiamo fatto con il patrocinio del comune di Gela, quindi in questi quattro stende saranno utilizzati proprio per Gela Famiglia dove esporranno i loro prodotti, i loro centrini, tutte le cose che riescono a fare per i bambini. La stessa cosa nello stende della parrocchia di Santa Lucia esporranno i loro prodotti. E noi nel nostro stende dell'associazione Antiracchete promuoveremo, come facciamo ogni anno, il consumo critico. Caponetti, siamo ormai alla fine dell'anno, se dovesse tracciare un bilancio delle attività del 2015, che bilancio traccerebbe? E come vanno i lavori di ristrutturazione in sede? Allora, per quanto riguarda il nostro bilancio, dicono, lo dicono gli altri, che è stato molto positivo. Abbiamo già raggiunto un notevole numero di imprenditori e commercianti che hanno denunciato. Siamo già a quota 167, quindi i risultati ci sono stati. Per ultimo con l'operazione Redi Vivi, che è stata veramente una cosa eccezionale. Per quanto riguarda la ristrutturazione della sede, io penso che entro metà gennaio, fine di gennaio al massimo, già la nostra sede sarà pronta, sarà completamente diversa e avremo in più anche una sede per convegni.